Isobel e Cricca innamorati, le foto in mano confermano che la loro storia è tra le strade romantiche della capitale che Isobel e Cricca sembrano aver riscoperto il loro amore. Giulia Turco si sono innamorati, sostenuti, poi hanno tenuto a tenuta stagna quando la sculofamici ha chiuso le sue porte. Giovanni Cicca e Isobel Kinnear sono stati tra le coppie più apprezzate di questa edizione, nonostante il loro sentimento non abbia trovato molto spazio nella narrazione del talento.ora, tornando alla vita reale, sembra che abbiano deciso di darci una nuova possibilità. Isobel e Cricca innamorato a Roma dal momento che il talent show di Maria De Filippi si è concluso, i due non hanno perso di vista. In effetti, tutti i ragazzi sono tornati a Roma per prepararsi e tenersi in scena con il Live Out Live Show, che sarà trasmesso martedì 20 giugno in Italia 1. I titè precisamente tra le strade romantiche della capitale che Isobel e Cricca sembrano aver riscoperto la loro punta. Le foto sono state riportate dall'esperta del gossip di Yanira Marzano, che le ha diffuse sui social media. La relazione tra Isobel e Cricca dopo gli amici in breve, non c'è dubbio che i due stiano cercando di vivere anche lontano dai riflettori. Forse questa volta sarà meglio che nella scuola, poiché lo stesso tempo aveva desiderato la Cricca bugiarda, intenzionata a riprovare con il ballerino australiano, che ha scelto di rimanere per vivere nel bellissimo paese. «Vorrei riprovare con lei, ho ancora una sensazione molto forte», ha detto in un'intervista con Super Guidato. Negli ultimi giorni, tuttavia alcuni sembravano gli ho fatto perdere le speranze sì, mi sono innamorato Isobel ed è stato un grosso errore. La cantante di Romagna si era sfogata durante una sessione domande e risposte sui social media. Il ballerino sembra tenerlo davvero in mano.